è appena finita il commento che mi viene da fare come prima cosa è mi sarei aspettato di più parlando della prestazione nel senso che da quest'Inter io arrivavo a questa partita molto sentita e mi sarei aspettato un Inter che voleva ammazzare agonisticamente parlando, sportivamente parlando l'avversario per dare un segnale forte anche in vista del prossimo futuro invece è stato un Inter timida e che non avrebbe mai meritato di vincere in una partita in cui comunque il risultato è ampiamente condizionato da un arbitro che definire scandaloso credo sia poco quello che abbiamo visto oggi in Juve e Inter veramente se volevamo chiudere una stagione senza polemiche, volevamo chiudere una stagione in tranquillità, quello che abbiamo visto oggi è qualcosa di vergognoso cioè quello che è accaduto oggi è qualcosa di vergognoso a livello di arbitraggio secondo me, peggiore in campo per distacco Calvarese metto in dubbio addirittura la prestazione di Abisso come peggior prestazione arbitrale contro l'Inter oggi con questa prestazione di Calvarese detto questo l'Inter non avrebbe meritato secondo me di vincere quindi so che i tifosi mi diranno sotto che stiamo cercando le scuse le scuse di qua e di là non ci sono scuse però l'arbitraggio è stato vergognoso e ai tifosi della Juventus che ci scrivono godo, godo, godo fate bene perché avete abbattuto un grandissimo avversario che ha dominato un campionato sinceramente ero fiducioso in vista di questa partita ma come ho sempre detto la Juventus resta nettamente la squadra più forte del campionato nettamente la squadra che pur dilazionando gli stipendi ha il monte in gaggi più elevato di tutti e quindi paga più stipendi di tutti e quindi mi aspettavo una Juve ben più in alto e ci sta che abbia vinto questa partita nulla però che cancella il rendimento un campionato stradovinato da parte dell'Inter fatemi ringraziare il nostro signor Keniantropo uno dei nostri abbonati che con il suo abbonamento con il suo sostegno ha contribuito alla realizzazione di questa clip se anche voi volete entrare a far parte del nostro club potete sostenerci su Youtube tasto abbonati oppure link in descrizione per avere accesso alle nostre dirette contenuti esclusivi il nostro club e tanti altri benefici andiamo a leggere le pagelle curate dal nostro Antonio Silagusano voto 6 ad Andanovic che è stato bravo a parare il rigore di Cristiano Ronaldo ma poi sfortunato sulla respinta in occasione del gol di Quadrado un po' ingannato anche dalla deviazione di Eriksen per il resto non è stato particolarmente impegnato screen a 6 e mezzo anche secondo me è stato il migliore dei tre dietro Defray 6 così come Bastoni Bastoni secondo me in realtà forse gli avrei dato anche qualcosina in meno anche perché è stato protagonista in negativo con un paio di errori superficiali nella prima fase di gara Vesino 6 e mezzo praticamente scrive il nostro Antonio giustamente fa più lui in dieci minuti che il resto dei centrocampisti riempiendo l'area di rigore è andato anche vicinissimo al gol del pareggio nel finale Hakimi 6 partita molto affiammate ci sta Chiesa è stata una grande intuizione comunque una scelta molto logica secondo me da parte di Pirro con Chiesa che ha tamponato molto la forza fisica di Hakimi Barella voto 6 per me è stato tra i migliori del centrocampo ma non ha fatto una prestazione stratosferica Brozovic 5 ci sta è stato limitato nervoso e non ha inciso molto Eriksen tra l'altro prende anche il rosso nel finale Eriksen 5 e mezzo è una partita non buona anche per me di Eriksen però come dicevamo anche in diretta non solo per demeriti suoi ma anche per demeriti di tutto il sistema attorno e di come lo ha schierato oggi Conte Sensi c'è i 5 e mezzo un po' timido il suo ingresso in campo al settantatresimo Darmian 5 purtroppo sì i suoi errori oggi sono costati cari Perisic 5 e mezzo anche se cambia passo non incide quanto ci si aspetterebbe Lukaku prende 6 fatemi sapere che cosa ne pensate voi messo in difficoltà anche lui dal duello con Chiellini spesso anticipato segna il rigore ci si sarebbe aspettato forse qualcosina in più Lautaro 7 non stava benissimo eppure è quello un po' più vivace davanti questi sono i voti del nostro Antonio Siracusano scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate se siete d'accordo a livello di partita che partita è stata una partita in cui dicevo io mi aspettavo dall'Inter un segnale a questa Juventus mi sarei accontentato anche di non vincere magari anche di perdere però con una prestazione differente una prestazione in cui è vero che praticamente la Juventus da quando è rimasta in dieci negli ultimi 40 minuti ma anche prima si stava molto difendendo ma da quando è rimasta in dieci non ha più attaccato e l'Inter ha fatto assedio totale cioè c'è stato il Pullman ha piazzato dalla Juve l'Inter che ha sbattuto contro questo Petro Juventino però mi sarei aspettato di più proprio anche dal punto di vista dell'approccio le prime occasioni sono state praticamente tutte Juventine mancava secondo me oltre al fatto che il rigore assegnato alla Juve per me è estremamente generoso il primo calcio di rigore manca il secondo giallo a Kulusevski quello per me è un grave errore anche perché nel secondo tempo per mantenere una sorta di diciamo linea arbitrale coerente con quello che è accaduto nel primo tempo va ad espellere Bentancur per un fallo che secondo me era molto meno da secondo giallo quindi da espulsione rispetto a quello del primo tempo su Kulusevski se avesse espulso Kulusevski prima forse avrebbe risparmiato il rosso a Bentancur e per me non avrebbe sbagliato due volte in questo caso ha sbagliato entrambe le volte il calcio di rigore per l'intervento sull'Autaro per me ci sta perché Dedicta arriva in ritardo e la Juventus chiude il primo tempo facendo meglio l'Inter cala di concentrazione nel finale e concede il gol a quadrato e quella è un'ulteriore colpa che do all'Inter dal punto di vista dell'atteggiamento secondo tempo è stato dominio totale dell'Inter anche per effetto appunto dell'espulsione di Bentancur riesce a raggiungere il pareggio anche un po' fortuido con quell'autogol di Chiellini non riesce a mantenere il pareggio perché poco dopo un'ingenuità difensiva di Perisic con il solito quadrato che io ragazzi non lo commento più quadrato ragazzi è un qualcosa di giocatore che quando fa fallo lui è anche scorretto e spesso fa anche male come abbiamo visto anche con alcuni nostri calciatori poi basta toccarlo leggermente sembra morto si riparte si riprende eccetera giocatore tanto forte quanto lo odio proprio sportivamente parlando una cosa anche il calcio di rigore non ci sta mai secondo me detto questo l'Inter resta comunque campione d'Italia nonostante questa sconfitta la Juventus vedremo se riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions adesso ci sarà attesa ovviamente per i risultati di Milan e Napoli nelle prossime ore vi ricordo ringrazio di nuovo il nostro signor Keniantro che con il suo supporto ha contribuito alla realizzazione di questa clip Juve-Inter finisce 3-2 rigore di Cristiano Ronaldo rigore di Lukaku gol di quadrato autogol di Chiellini e rigore anche di quadrato nel finale questi i marcatori vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube a seguirci su tutte le piattaforme di podcasting Spreaker Spotify Apple Podcast Google Podcast se vi abbonate vi aspetto nel club per intervenire in diretta qui con noi con noi Grazie a tutti.